Ciao a tutti, credo che molte volte avete sentito parlare riguardo gli integratori utili per le articolazioni, ma sapete nello specifico di che cosa si tratta? Devo ammettere che il dottor Marco Favaron mi ha dato una risposta molto interessante a riguardo. Vediamola assieme! All'interno del prodotto Joint Formula ho visto che scrive la sigla OVMET, che cosa significa? OVMET è nei prodotti per le articolazioni, perché viene presa dalla pellicola e si sa quando fa l'uovo sodo. Non dimenticare di iscriverti al canale! C'è quella pellicola che rimane attaccata all'albume. Quella pellicola è ricca di nutrienti fondamentali per le articolazioni, acido ianuronico, glucosamina, tutte sostanze che sono fondamentali. Quindi OVMET è praticamente dei componenti che sono purificati da quella pellicola che ci servono per le articolazioni. Ditemi la verità, questa cosa la sapevate? Fatemelo sapere nei commenti, mettete un like e in fondo trovate la descrizione di questo prodotto. E ci vediamo presto con un nuovo video!